Il titolo della canzone è Frida, gli autori siamo io, Davide Petrella, Faini e Raina. Parla di un amore contemporaneo, raccontato con un linguaggio contemporaneo, la cosa che ci piaceva di più era il paragone con Frida Kahlo, che è l'esempio perfetto del risolvere in positivo i momenti negativi della vita, cioè gli eventi negativi della vita. Cosa ci aspettiamo dal festival? Sicuramente una crescita, perché è un palco assurdo, alcuni nostri amici l'hanno anche calcato quel palco lì e non vediamo l'ora, perché è un'esperienza che ci va tanto di fare. La dedichiamo a un po' tutti, perché tutti quanti si possono ripetere in quella canzone lì, in quel testo lì, quindi è a voi. L'edizione del festival forse, non so a chi la dedicherei, forse ai nostri genitori. Mia mamma, da quando sono nato, si guarda il festival di Sanremo da casa tutti i giorni della settimana della Kermess. Lo dedico a lei, io personalmente. Anche Ale lo dedica a mia mamma. Lo dedico a sua mamma. Ciao Lena. A sua mamma tutti. Tutti a Lena, mia mamma. Chi vincerà il festival di Sanremo? Eh, queste tos, cioè, sono dei nomi assurdi. E le storie tese? Ma pure noi. Non esageriamo. No, no. O Elio e le storie tese o forse Ermal e Moro. Ci vediamo al festival e salutiamo anche tutti gli amici di RaiPlay.